Presidente Renzi, alla partenza della squadra per il tiro, parte questa nuova avventura, le sensazioni? Come sempre quando inizia una nuova avventura, sensazioni positive, quest'anno facciamo quello che non c'è stato possibile fare l'anno scorso perché siamo partiti per varie, come tutti sapete, non in corsa ma già a campionato, a giro iniziato, dunque partiamo, facciamo questi dieci giorni a Sarnano per compattare il gruppo e tutto quanto e poi andiamo avanti. I tifosi le chiedono di non mollare, come mai questa domanda? Ma i tifosi sono l'unica parte positiva di questa avventura, ragazzi, io lo dico sempre, loro c'è sempre qualcuno che fa la critica ma io le critiche dei tifosi le accetto come accetto incoraggiamenti, io tanto non mollo, è solamente una conferma di quello che voglio fare, l'ho ribadito in conferenza, quest'anno ho messo anche come rappresentante di tutti quanti mio figlio, dunque come faccio a mollare, anzi, diciamo come diceva, non mollo, raddoppio, dai. Qual è l'obiettivo di questa stagione? L'obiettivo è chiaro che dobbiamo uscire da questa serie e dobbiamo fare del tutto per arrivare a questo benetto professionismo. Ma di oggi la notizia di un possibile passaggio di falla al Porto d'Ascoli, che effetto le fa questa notizia? No, vabbè, ma il calcio è fatto così, Amet dove va vai, faccio un grande bocca al lupo per la prossima stagione, spero per lui che ripeta il campionato che ha fatto con noi, ma senza nessun problema, nello sport è sempre così, fine partita, un abbraccio e si va avanti. Adesso rancore neanche con il presidente Massimo? Ma no, io non c'ho rancore con nessuno, anche perché non ho sinceramente rapporti, dunque non riesco neanche a litigare con una persona che non ha rapporti, non ci sentiamo per telefono, ci siamo visti due volte in occasione delle partite tra le squadre, dunque tranquillo, si va avanti. Tornando alla Samb, tanti giovani in prova, cinque ragazzi della Juniores, una squadra che come disse Cozzella in conferenza va in qualche maniera aggiustata, strada facendo, partendo per il ritiro. C'è comunque, anche ho detto prima ad Alfonsi, un po' di orgoglio per cinque ragazzi della Juniores che quest'anno pure è partita tramite difficoltà, però ha fatto un ottimo campionato. Ah sì, io ho sempre detto che la base, se noi riusciamo a creare una base qui di San Benedetto, di paesi limitrofi, è importante, noi ci dobbiamo anche fare questo, il nostro obiettivo questo qua di fare sì che il settore giovanile sia un magazzino per la prima squadra. Vittorio mi ha sempre detto che prima voleva gli under per poi completare la rosa con gli over, dunque con le riconferme, con tutto quanto, ma poi sicuramente tra il ritiro ci saranno degli innesti quasi su tutti gli over che saranno quelli che ci porteranno qualità e vediamo come va a finire, dai. Grazie.